Professore, quali sono le funzioni dell'organismo che è stato designato per siedere? È quello di far sì che l'Europa, tutta l'Europa, tutti i paesi dell'Europa affrontino il cancro, affrontino questa patologia in maniera integrata dando da parte del Parlamento una disponibilità forte in termini economiche perché sono 20 miliardi di euro da spendere tra il 2021 e il 2027 e affrontando questa patologia a 360 gradi. Qual è la situazione in Italia della ricerca e della lotta contro il cancro? Noi siamo uno dei paesi di punta, però questo spesso non si traduce in un'adeguata qualità dell'assistenza, dal punto di vista della ricerca e dal punto di vista dell'assistenza in certe regioni, in certi centri possiamo dire all'avanguardia mondiale, grazie ai ricercatori, grazie ai medici, grazie al personale però in altre regioni l'assistenza è veramente terrificante cioè si arriva tardi alla diagnosi, la differenza soprattutto tra sud e nord faccio l'esempio del cancro della mammella, le donne del sud si ammalano molto di meno ma muoiono molto di più perché non fanno lo screening, arrivano tardi ma non per colpa loro, per colpa delle strutture che non offrono attivamente questo tipo di interventi. Si sta investendo adeguatamente nella formazione dei giovani ricercatori nel nostro paese? No, assolutamente no, siamo il fanalino di coda d'Europa e ormai anche del mondo perché paesi come la Cina, come gli Stati Uniti, come alcuni paesi asiatici stanno investendo noi stiamo accumulando un gap, non solo, ma quelli che formiamo, cioè i bravi ricercatori e i bravi medici ce li facciamo scappare, vanno via a migliaia, siamo l'unico paese che ha un export netto negativo cioè negli altri paesi vanno ma vengono anche da noi, vanno via soltanto e questo è qualcosa che non ci possiamo permettere.